Si chiama Yunus River, ha 82 anni e da 18 anni e mezzo gira il mondo in bicicletta, macinando sulla sua due ruote vintage la bellezza di 400.000 chilometri. È arrivato venerdì ad Agropoli, accolto alla stazione dallo staff di Vivicilento con il suo presidente Manuel Ruocco. Agropoli Rent di Francesco Trimarco invece ha messo a disposizione le biciclette per accompagnare Yunus River nel giro turistico della città e salutare anche il primo cittadino Adamo Coppola. Più federalberghi e più quelli associati albergatori, ma il comune solo io visita sindaco, foto per giornali, lì queste cose ufficiali. Solo che qui adesso si è trovato in situazione quando lei mi fa aiutare per questa sua autorità, visto che è successo. Sei un dentista, ma lo troviamo? Mi serve quello dentista, è importante per passaparola. L'evento ha l'obiettivo di manifestare attraverso questa semplice azione di accoglienza quanto il territorio ci tenga a dare sempre un'immagine positiva e ospitale di se stesso. Il ciclista è stato ospitato presso il lamione da Dorotea, Yunus, sabato e ripartito alla volta di Pestum per poi arrivare a Napoli chiudendo la campagna.